Devo dire assolutamente due cose subito con questa intervista. Gigi Zambelli non dico fosse felice domenica scorsa a Palazzolo perché sicuramente un po' di amarezza c'era, però devo dire che oggi, e questo mi fa piacere, ti vedo un po' più sciolto anche perché forse abbiamo ritrovato la Prada Lunghese, quella che piace a te. La Prada Lunghese è vera, che ha combattuto. Domenica a Palazzolo non si doveva giocare. Se venivo a parlare avrei fatto ancora polemica, se è stato ancora richiamato dai dirigenti federali a dire che non mi va bene mai niente. Era una partita da non giocare, si è visto tutti, poi è andata bene, il pareggio ci stava, non abbiamo fatto poco o niente per vincerla, era giusto così. Però non ero incazzato né con i miei né con Palazzolo, era una gara da non giocare. Questo era per chiarire l'aspetto della partita domenica scorsa. Oggi ho detto, è una Prada Lunghese che mi è piaciuta, nel primo tempo soprattutto vogliosa, e questo si è visto, grintosa al punto giusto. Una partita mai fallosa oltre le righe, questo è un altro punto importante. E poi questo 1-2 di Cortinovi, l'unico neo, questo Paladino che forse non vi aspettavate così. No, l'aspettavamo, conoscevamo le qualità dell'allenatore che mette la squadra con molta voglia, molto aggressiva. È un allenatore che conoscevo quando eravamo al Bano assieme e sapevo che aveva preparato la partita nei minimi dettagli. Però ecco, noi sul 2-0 abbiamo fatto ancora un errore grosso come una casa procurandoci un rigore. In tre partite abbiamo subito due gol, due rigori e nessun gol su azione. C'è un po' di rammario, c'è poca attenzione o magari eravamo rilassati, fatto il 2-0, erano tre partite che non vincevamo. Ma si pensava che finalmente ce l'abbiamo fatta e lì abbiamo ancora complicato un qualcosa che ci ha fatto soffrire fino al novantese. Nessuno disquisisce sul punteggio o perlomeno sulla vittoria perché sicuramente nei 90 minuti chi ha costruito di più, l'abbiamo visto, è stata la Prada Lunghese. La Prada Lunghese, come ho detto, a mio modo di vedere, sembra essere sulla strada giusta. E poi adesso dimmi l'arrivo di questo Teoldi, perché l'hai voluto? L'hai voluto perché noi, anche oggi, i nostri due, tra virgolette, anziani in difesa hanno fatto bene, sia Pachinetti che Carlo Marchesi. Però noi non abbiamo la prima partita senza Marchesi e con la Varnese abbiamo sofferto, Pachinetti senza Pachinetti abbiamo sofferto. Un ragazzo che viene, viene dato un grosso infortunio, ha recuperato, viene a darci una mano, è giusto che ci dia una mano, un'esperienza in più. Serve la Prada Lunghese, è il progetto che parte, la seconda fase della Prada Lunghese, che adesso tentiamo di arrivare nei play.